Seconda parte di questo appuntamento con TRG Mattina in questo martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, culture e spettacoli in primo piano in questa seconda parte e il Corriere dell'Umbra nel suo album celebra e commemora. Christo Yavachev, bulgaro di nascita ma statunitense poi a tutti gli effetti nel corso della sua vita, uno dei più grandi artisti contemporanei della nostra epoca, esponente principale della cosiddetta Land Art, deceduto proprio nei giorni scorsi. Morto Cristo incartò anche i monumenti di Spoleto, qui in foto proprio l'artista bulgaro naturalizzato statunitense che divenne famoso per gli impaccaggi tra le sue opere più celebre anche la copertura del lago Diseo nel 2016. la celebre passarella Floating Pierce, così denominata la passarella sul lago Diseo. Qui proprio Christo in foto è stato l'artista più celebre della Land Art, l'abbiamo ricordato, nel 1968 fu chiamato da Menotti proprio al Due Mondi di Spoleto, l'audace copertura anche della Kansas River nei suoi Stati Uniti, la sua ultima opera sarebbe dovuta essere a Parigi. ha raggiunto così la moglie Jean-Claude, artista come lui e che lo ha seguito, che si sono affiancati in opere rimaste nella memoria collettiva di tutti gli artisti e gli appassionati di arte contemporanea fino al 2009, anno proprio del decesso di Jean-Claude. Questo per ricordare Christo. Passando invece alla Nazione, si parla del celebre artista Francesco Guccini, Il mio libro per fermare il tempo. Alle sole degli 80 anni, Guccini, tra i finalisti del Campiello, la letteratura è il luogo della scoperta, ha dichiarato proprio il cantautore modenese Guccini, qui in foto anche insieme a Lucio Dalla. Il romanzo racconta di Pavana, piccolo paese tra Emilia e Toscana, dove si è ritirato. Questo per quanto riguarda dunque la pagina di cultura, ma prima di andare allo sport ci vediamo questo estratto da un video confezionato dai cantoress Beati Ubaldi, che potete trovare ovviamente su YouTube e sui social, davvero molto accattivante e che ricorda un po' quello che è stata a Gubbio nei vicoli qualche anno fa. Boceronia Amerenda si intitola proprio questo video, che parla anche di tradizioni ceraiole, con canti interpretati proprio dai cantoress Beati Ubaldi, che riecheggiano in questo video, con alcune foto d'epoca davvero suggestive. Vediamo. A Dio, mia bella, a Dio, che armata se ne va, e se non partissi anch'io sarebbe un'abilità, e se non partissi anch'io sarebbe un'abilità. Non piange il mio tesoro, forse io ricorderò, ma se in battaglia moro in certi libero, ti libero, ma se in battaglia moro in certi libero. Io non ti lascio sola, ma ti lascio un figlio a te. Sarà quel che ti consola il figlio dell'amor, sarà quel che ti consola il figlio dell'amor. Questo è un estratto del video intisolato proprio omaggio dei cantoress Beati Ubaldi. Abbiamo sentito addio, mia bella, addio davvero da vedere e rivedere. L'ho trovato ovviamente sui social e sui canali YouTube. Parliamo di sport ora, partendo proprio dal Corriere dell'Umbria. Grifo, ripartenza trappola delle dieci gare restanti, sei sono con squadre impegnate nella dura lotta per la salvezza. Oggi allenamenti di mattina, domani ancora tamponi, con Rajkovic ai box, anche Benzar dunque per la formazione perugina che vede la ripartenza della Serie B. Intanto vuole Superlega, c'è anche Biglino, la Sir chiude il reparto dei centrali, il giocatore piemontese, firma per due anni, era arrivata a stagione in corso dalla 2 dopo l'infortunio di Ricci. Promozione intanto su Goni, la Tairus, veloce, verticale e farà divertire, dichiara il tecnico della formazione dell'Olimpia Tairus. E poi i ricordi di Sandro Mazzola, Mazzola e Lumbria, che ricordi dalle sfide con la Ternana di Viciani, rete decisiva nel 73, e il Perugia di Castagnere Boscov, alla grande amicizia con Barberini, Agualdo Portai di Napoli, Conticchio, Di Sauro e anche Tasso, questo il ricordo da parte di Mazzola, Renzo Tasso e Gubino, e oggi allenatore della Tiferno, che andrà in Serie D. Il capitano della grande Inter, piangola morte di Simoni, una persona speciale, alla fine aveva sempre ragione, ricordando anche l'ex direttore tecnico del Gubbio. E parlando proprio di Gubbio, Mengoni è fuori pericolo, ma ha rischiato di morire per proprio il Covid, il preparatore atletico della formazione Rosso-Blu, collaboratore di Vincenzo Torrente, ora non vede l'ora di uscire, dichiarano per il calcio, c'è sempre tempo, bisogna fare le cose con calma, dopo davvero momenti difficili, per Romano Mengoni, a cui va ovviamente anche tutta la nostra solidarietà. Ternana, la ripartenza costa più di 130 mila euro, bandecchi, ma non ci sono problemi, siamo organizzati, il Presidente deve mettere mani al portafoglio, fra i tiri, i viaggi, i trasferte, e testi in un gruppo formato da 54 persone. La fase playoff, a seconda si si va avanti o meno, serviranno fra i 35 e i 55 mila euro, qui in foto, il centravanti ferrante della Ternana. Intanto in Serie D, Trestina e Cerbella si separano dopo 17 anni indimenticabili, dunque non sarà più l'allenatore del Trestina, Enrico Cerbella. Passando invece alla Serie A, si parte con Toro Parma, Juve Lazio il 20, ora ci sono anche date orari, via libera al massimo campionato, la partitissima tra Juve Lazio, le due squadre che stanno lottando il primo posto, si giocherà il 20 di luglio. Intanto semifinale di Coppa Italia, la Lega vuole giocare il 12 e il 13, ma serve l'ok del governo. Gravina il caso quarantena, pronta una nuova proposta, e sull'algoritmo il Presidente della FIGI ci spiega, garantisce equità in capo di stop forzato e numero di gare dispari dunque. Intanto in Brasile il Vasco de Gama ha ben 16 giocatori positivi. Passando ancora alle altre notizie di sport, MotoGP niente da fare, il GP del Giappone è stato cancellato, il Moto Mondiale farà il maggior numero di eventi in Europa, almeno fino a metà novembre. Via libera invece del governo inglese, due gran premi consecutivi a Silverstone il 2 e il 9 di agosto. E parlando di giocatori umbri di alto livello, nel volley, ora è ufficiale, Zaitsev torna in Russia. Lo Zara firmato con i siberiani del Kemerovo, dopo aver rifiutato di ridursi l'ingaggio a Modena. Dunque il pallavolista Umbro ed ex Sir Perugia, torna in Russia, aveva già giocato con la Dinamo di Mosca. Vediamo allora anche le notizie sportive, invece sulla Nazione, che riparte proprio dal Perugia Calcio, e dal record che sta cercando di battere il suo bomber principio, ovvero Pietro Iemmello, che ha segnato, almeno prima dell'interruzione, 17 reti in campionato, e ha nel mirino quota 20. Eccolo, Grifo, Re Pietro punta i 20 e caccia al bonus. L'attaccante realizzato 17 gol, se ne farà altri tre, scatterà un premio importante. 25 mila euro per Iemmello, dunque una motivazione in più. Anche la questione prestiti, Iemmello, Nicolussi, Vicario, Carraro, Falcinelli, Capone e Benzar sono tutti in scadenza. Intanto seduta al mattino, giovedì la doppia, il Perugia store intanto cambia gestione. Ascoli, prossimo avversario, Abascal pensa al 4-3, nuovo tecnico proprio della formazione bianconera, Pescara, nuovo K.O. intanto per Tumminiello. Intanto, per quanto riguarda Foligno, la C4 riapre Cancelli al settore giovanile, misuriamo la febbre, ma la doccia si fa a casa, dichiarano dalla società Folignati. Intanto, Serecci, Gubbio e il futuro, progetto da parte di Torrente e Gian Marioli, che dovrebbero, sono confermati in pectore, diciamo così, dal presidente notari, in attesa proprio del nero su bianco sui contratti. Ternano al lavoro intanto per il prestito di Palumbo, sempre in Serecci. Mercato, Mantignana, Blinda, Rosati, nuovi mister intanto a Olimpia e Tiberis. E poi Sirperugia, Biglino, resta al Palabarton, felice del rinnovo, pronti a ricominciare. Chiudiamo allora con le notizie anche sul messaggero, sempre di carattere sportivo, Grifo, sprint con l'uomo dei record, Cosmi tra i migliori tecnici di sempre, come percentuale di vittorie stagionali in B, possibile la rimonta playoff. Domani calendario, se avversari fu dieci sotto in classifica, l'algoritmo per la media punti penalizzerebbe proprio il Perugia. Poi il personaggio Pagliari, tra me il Perugia, un lungo amore, dichiara proprio l'ex tecnico anche del Foligno. Narni, riaperto in sicurezza, l'impianto di atletica Bertolini in questa fase 2. E poi nel taglio in basso, Ternana, Fabio Gallo, Scalpita, c'è ancora troppa confusione, dichiara proprio il trainer della formazione Rosso Verde. E allora, siamo davvero in chiusura, vediamo il meteo per quanto riguarda questa giornata. 2 giugno sereno, poco nuvoloso, su tutta la regione al mattino, con tendenza ad aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane, alla quale potrebbe essere associato alcuni rovesci dei temporali, attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni poi in serata, dunque con temperature massime, il lieve aumento. Questo per quanto riguarda il meteo, comunque con possibili rovesci, soprattutto nella zona Appennini, che avete visto dal grafico, nel corso della giornata. Siamo davvero in chiusura, ricordo allora gli appuntamenti, su TRG di questa giornata, alle 16.10 con la Gubbio Nascosta, percorsi Ubaldiani, alle 17.30 invece verrà riproposta la festa dei Ceri Piccoli 2019, oggi avrebbe dovuto tenersi quella del 2020, noi riproporremo oggi pomeriggio l'ultima festa dei Ceri Piccoli 2019, alle 17.30 su TRG. E stasera alle 20.45, nel nostro TRG Plus, l'intervista a Elena Veschi, presidente Corecom, appena insediata proprio, per quanto riguarda l'organo di comunicazione regionale. E tutto per quanto concerne questo appuntamento con TRG Mattino, che torna domani, sempre alle 7.30 in questo caso, non alle 9 come oggi, ripartirà alle 7.30 su TRG. Buon 2 giugno a tutti voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.